Allora, quale maledizione vediamo per prima? Waitley! Sì? In piedi! Dici una maledizione? Beh, mio padre me ne ha spiegata una. La maledizione Imperius. Oh sì, quella tuo padre la conosce bene. Ha procurato al ministero qualche dolore pochi anni fa. Forse questo ve ne mostrerà la ragione. Ciao, mio bel tesorino. Ingorcio. Imperio! Tranquilli, è del tutto innocua. Senti pizzica, è letale! Cos'hai da ridere? Battene, battene, battene! Ho talento, eh no? Chi altro la devo far fare? Saltare dalla finestra? Affogarsi? Schiere di streghe e di maghi hanno affermato di aver eseguito gli ordini di voi sapete chi? Perché? Sotto l'influenza della maledizione Imperius. Ma questo è il punto. Come li scoviamo, i bugiardi? Un'altra, un'altra. Su, su, porta. Poi ciò, dico bene? In piedi. La professoressa Sprite mi dice che tu hai attitudine per erbologia. C'è, c'è, c'è la... Maledizione Cruciatus. Esatto, esatto. Vieni, vieni. Particolarmente orrenda. La maledizione della tortura. Crucio! La smetta! Non vedi che lo fa star male? La smetta! La smetta! Forse tu puoi dirci l'ultima maledizione senza perdono, signorina Granger. No? Avada Kedavra! L'anatema che uccide si sa che una sola persona è sopravvissuta adesso ed è in questa stanza. La smetta!